Sono i filtri. Allora, oggi parliamo di filtri. E che cosa sono? Essenzialmente sono sistemi lineari a due porte. Che possiamo schematizzare con una funzione di trasferimento di trasferimento, come dire, un ingresso e un'uscita. Quindi immaginiamo di avere la trasformata di Fourier del segnale di ingresso XDF, la funzione di trasferimento HDF del filtro. E quindi in uscita abbiamo la trasformata di Fourier del segnale, che sarà, come sapete, per un sistema lineare, il prodotto della funzione di trasferimento del sistema per la trasformata di Fourier del segnale di ingresso. Quindi i filtri che cosa consentono di fare? Scegliendo opportunamente la funzione di trasferimento del filtro, possiamo modificare lo spettro del segnale di uscita. Quindi possiamo avere un'azione diversa sulle diverse componenti frequenziali del segnale di ingresso. Può essere utile cercare di cominciare con una classificazione, almeno a grandi blocchi dei filtri. Ci sono due tipi di classificazioni che ci possono tornare comode. Uno è quella tra filtri attivi e passivi. Filtri passivi hanno soltanto componenti passivi lineari. Componenti passivi vuol dire che sono componenti che non amplificano, quindi resistenze, induttanze e capacità. Quindi elementi lineari che non amplificano. Per esempio, un filtro passivo è un filtro RC passa basso, come questo. Voi sapete che questa è una funzione di trasferimento con un polo, determinato dalla costante di tempo RC. ha un ingresso e un uscita, ha un sistema lineare, quindi risponde alla definizione di filtro. E anzi, sapete già qual è la funzione di trasferimento. Potete ricavarla, c'è un partitore di impedenze. Viene una cosa di questo tipo. 1 diviso 1 più J omega RC. Filtro ha un polo, quindi che ha un comportamento passabasso. Un limite superiore di banda che è omega uguale a 1 su RC. Questo omega è uguale, come sapete, a 2π per F, quindi funziona di F. Ci sono invece filtri attivi. I filtri attivi usano degli elementi in grado di amplificare il segnale. Quindi possono usare dei transistor o degli amplificatori. E noi ci concentriamo soprattutto su questi. Quando in elettronica abbiamo finora visto come possiamo utilizzare i transistori come amplificatori, conosciamo l'uso degli amplificatori operazionali, quindi siamo in grado a questo punto di progettare dei filtri attivi. Quindi noi ci concentriamo su questi. Usano transistori e amplificatori. Allora, in generale, una cosa che sapete è che la funzione di trasferimento di un sistema lineare qualunque si può scrivere come un rapporto tra un polinomio in j omega al numeratore e un polinomio in j omega al denominatore. Bene? Questa è una proprietà generale delle funzioni di trasferimento dei sistemi lineari. L'altra cosa che vi ricordate è che l'ordine del polinomio del numeratore deve essere minore o uguale di quello del denominatore. Questa è una condizione legata alla possibilità che esista fisicamente il sistema. L'altra cosa che vi dovreste ricordare è che chiaramente i due polinomi sono polinomi complessi, ma i coefficienti dei due polinomi sono sempre coefficienti reali. Anche questo l'avete già visto. Quindi abbiamo visto la prima classificazione. C'è una classificazione più utile per certi versi che risponde al tipo di uso dei filtri, al tipo della funzione di trasferimento. Allora, facciamo come spesso qua, una classificazione ideale. Va bene? Poi, come dire, ci serve definire come sono fatte le categorie ideali di filtri, anche se sappiamo che i filtri reali non saranno uguali a quelli ideali. Non saranno le stesse caratteristiche, ma questa classificazione ideale ci permette di associare un filtro reale a una particolare categoria. Allora, abbiamo filtri di tipo passabasso, che hanno una funzione di trasferimento di questo tipo. Immaginate che io disegni soltanto il diagramma di Bode, quindi questa è la funzione di trasferimento, il modulo della funzione di trasferimento H, questa qua è Omega, facciamo più che il diagramma di Bode, facciamo proprio il modulo della funzione di trasferimento. Quindi immaginate che sia lineare, lineare, gli assi. Allora avrà un comportamento di questo tipo, avremo un limite superiore di banda, per esempio Omega H, per frequenze da 0 fino al limite superiore di banda, la funzione di trasferimento è un certo valore H0, dopo è 0. Quindi è facile da scrivere la funzione di trasferimento, in pratica possiamo scrivere così, modo di H è uguale a H0, se Omega è minore di Omega H, ed è uguale a 0, se Omega è maggiore o uguale Omega H. Questo è il... Questo è la prima... diciamo, un'espressione che rappresenta quello che ho disegnato graficamente. Chiaramente possiamo avere la situazione opposta, cioè il filtro passa alto. Il filtro passa alto avrà una funzione di trasferimento, come dire, speculare rispetto a questa, cioè sarà la funzione di trasferimento diversa da 0, solo da una certa frequenza in su. Per esempio questa è Omega L, avremo che fino a Omega L la frequenza è nulla e poi per frequenze maggiori ha un certo valore H0, per esempio. Chiamiamolo H infinito, così si capisce che per frequenze è fino all'infinito. Quindi in questo caso, io com'è che scrivo la funzione di trasferimento? modulo di H uguale a 0 se Omega è minore o uguale a Omega L oppure H infinito se Omega è maggiore di Omega L. possiamo poi definire il passabanda. Il passabanda è ancora simile. In pratica ci sarà soltanto un intervallo di frequenza in cui la funzione di trasferimento è diversa da 0, diciamo da Omega L a Omega H e fuori da questo intervallo la funzione di trasferimento è 0. Chiamiamolo HCB il valore. Quindi avremo una cosa del genere che H è uguale ad HCB il modulo di H è uguale ad HCB per Omega compreso tra Omega L e Omega H e invece è uguale a 0 altrove. Quindi per concludere abbiamo gli elimina banda che hanno un andamento stavolta speculare rispetto a passabanda cioè come dice il nome eliminano una banda che vuol dire che la funzione di trasferimento è sempre pari a un certo valore tranne in un intervallo che corrisponde appunto alla banda eliminata. Quindi in questo caso avremo che H è uguale a 0 per frequenze minori uguali a Omega L l'uguale conta poco dove lo metto perché tanto in pratica è un'evenienza abbastanza improbabile. No, qui non 0 sbagliato H0 H0 per Omega uguale a Omega L 0 invece per Omega compreso tra Omega L e Omega H e H0 per Omega maggiore uguale di Omega H. Quindi la classificazione è abbastanza semplice tenete presente che si tratta di una classificazione ideale come dicevo prima quindi diciamo comoda per fissare dei riferimenti perché è solo ideale perché come forse ricordate un filtro causale cioè in cui la risposta per esempio all'impulso all'istante 0 comincia dopo l'istante 0 non può avere una transizione brusca tra una regione in cui la funzione di trasferimento è nulla a una regione in cui è finita un fronte in salita così brusco non è in realtà possibile ottenerlo questo concetto l'avete visto è fisicamente impossibile ottenere una transizione discontinua da un valore finito a un valore 0 in frequenza giusto per ricapitolare per riprendere il motivo si riesce a dimostrare abbastanza facilmente che un filtro che avesse una risposta discontinua in quel modo avrebbe una risposta all'impulso in frequenza discontinua in quel modo avrebbe una risposta all'impulso non causale quindi per cui ha un impulso che arriva all'istante 0 la risposta comincerebbe prima di 0 per cui questo a maggior ragione diventa un riferimento ideale nella pratica non si può ottenere come sono fatti invece le funzioni di trasferimento dei filtri reali vediamo un paio di esempi in modo da capire sono un pochino più come dire morbide ok vediamo per esempio un filtro passabasso reale come è fatto se faccio adesso immaginate fare proprio il diagramma di Bode quindi questo è il modulo di B e questo qui è il logaritmo di Omega va bene qui questo che vuol dire che questo non è 0 non è frequenza nulla a questo incontro perché la frequenza Omega uguale a 0 corrisponde all'ogarittimo meno infinito quindi siamo all'estremo dell'asse quindi giusto così Omega uguale a 0 è da quella parte allora la funzione di trasferimento come è fatta invece di essere brusca come vorremmo è fatta in questo modo in pratica c'è una zona più o meno continua ma poi tipicamente ci sono un po' di oscillazioni finché alla fine si va giù di nuovo e ci sono un altro po' di oscillazioni quindi non è esattamente piatta dove doveva essere piatta il fronte il passaggio dalla zona in cui la funzione di trasferimento è finita a quella in cui è nulla non è non è brusca non va mai veramente a 0 perché qui siamo questa è in db quindi siamo a un numero di db bassi quindi un numero molto piccolo ma non esattamente 0 in questa è come è fatta la funzione di trasferimento di un filtro passabanda reale se fosse ideale dovremmo avere una cosa piatta fino a un certo punto e poi da una frequenza in poi giù a meno infinito perché a 0 vuol dire meno infinito db d'accordo la cosa un pochino più dolce e cosa è utile fare a questo punto è utile fissare alcuni parametri che ci permettono di descrivere il comportamento della funzione di trasferimento chiaramente non ci interessa descrivere tutto il dettaglio di come si muove la funzione di trasferimento ma alcuni punti notevoli sì per esempio una cosa importante è definire il limite superiore di banda in questo caso il limite superiore di banda tipicamente si definisce in questo modo si definisce a meno 3db si prendono 3db sotto il valore piatto della funzione di trasferimento si traccia la retta orizzontale e si prende quindi questo punto che è il punto che corrisponde a 3db meno del valore a frequenza nulla la frequenza che corrisponde a questo punto si chiama limite superiore di banda a 3 a meno 3db quindi omega h è il limite superiore di banda a meno 3db che vuol dire in pratica che hdj omega h in modulo in db è uguale a h0 in db meno 3 questo è il significato e questa è una cosa importante poi che cos'è che si definisce anche qui si definisce questa cosa che in realtà è fastidiosa che è la massima escursione nella banda passante questa distanza qua si chiama ripple in inglese in italiano è ondulazione ed è una grandezza che si indica in db cioè la massima variazione in db su questo asse tra il valore massimo e il valore minimo dell'oscillazione nella banda passante chiaramente in generale più piccola è l'ondulazione più il filtro si avvicina a un filtro ideale poi un'altra ecco poi bisogna definire questa zona qua e cos'è che si definisce per dare una misura di quanto rapidamente poi va a cadere la funzione di trasferimento si definisce una banda di transizione e un'attenuazione in banda di transizione cioè si dice io ho bisogno di avere un'attenuazione di una certa quantità che fisso in questo modo a partire da questa frequenza quindi si dice l'attenuazione che è questa la distanza la distanza tra chiamiamola a uguale attenuazione la distanza tra il valore in cui considero praticamente zero la funzione di trasferimento e il valore della funzione di trasferimento a frequenza nulla questa distanza è una in db si ottiene e poi dico che questa frequenza la frequenza a cui la funzione di trasferimento è attenuata al meno di a si chiama limite inferiore della banda soppressa limite inferiore banda soppressa quindi in pratica io cos'è che vado a definire vado a definire tre bande una banda passante che è questa e che arriva fino al limite superiore di banda ok da zero fino al limite superiore di banda è la banda passante da omega s in su ho la banda soppressa cioè l'intervallo di frequenza che per me è equivalente all'intervallo di frequenza in cui la risposta del filtro è nulla anche se non è veramente nulla e la regione intermedia si chiama banda di transizione notate che in un filtro ideale il ripple si indica con la lettera chi volte quindi in un filtro ideale il ripple è nullo la banda soppressa è uguale al complemento della banda passante quindi omega h è uguale a omega s la banda di transizione è nulla perché il fronte in discesa della funzione di trasferimento è il fronte in discesa è diciamo a pendenza infinita e poi l'attenuazione è infinita quindi queste tre condizioni sono quelle che avremmo un filtro ideale non sono realisticamente ottenibili chiaramente però ci servono come riferimento perché più un filtro reale si avvicina a quelle quantità quindi più è basso il ripple più è forte l'attenuazione più è piccola la banda di transizione più il filtro è buono come passa basso e quindi ci permettono di definire un parametro di confronto sono importanti queste quantità perché sono le specifiche che vengono date quando si chiede la progettazione di un filtro quando si chiede di progettare un filtro oppure si deve semplicemente acquistare o scegliere un filtro questi sono parametri che si vogliono si vuole sapere la banda passante il limite superiore della banda passante il limite inferiore della banda soppressa qual è l'attenuazione che serve e qual è il ripple che si vuole sopportare quindi queste quattro quantità diventano anche le specifiche del filtro non si definisce il dettaglio della funzione di trasferimento quando si richiede un set di specifiche ma si richiedono almeno questi quattro parametri d'accordo? un discorso analogo non la faccio così lunga ma chiaramente vale anche per le altre tipologie di filtro ora tanto per comodità vediamo soltanto un filtro passabanda reale per far vedere che in pratica ci sono le stesse quantità da definire in pratica anche in un filtro passabanda reale noi abbiamo una funzione di trasferimento che ha una forma di questo tipo avremo una cosa del genere avremo qua la banda soppressa poi c'è la banda passante con ripple e poi c'è di nuovo la banda soppressa superiore e l'andamento è questo e di nuovo quindi dobbiamo andare a definire quelle quantità che sono di più di prima abbiamo hcb che è questo abbiamo il ripple in banda che è questo dobbiamo andare a definire vedete esattamente la cosa come prima qual è la prendiamo 3db sotto il centro banda tracciamo la retta e definiamo i limiti di banda meno 3db a questo punto che cosa avrò questo qui sarà omega l limite inferiore di banda a meno 3db e questo sarà omega h limite superiore di banda meno 3db d'accordo poi dovrò definire la banda l'attenuazione della banda soppressa per esempio la prendo qua quindi questa qua è l'attenuazione della banda soppressa e poi avrò quindi le frequenze questo sarà il limite superiore di banda della banda soppressa e questo qua sarà il limite inferiore di banda della banda soppressa quindi facciamo il fumetto questo è il limite superiore della banda soppressa e questo qui sarà il limite inferiore della banda soppressa superiore questo qui sarà il limite inferiore a meno 3db della banda passante e quest'altro sarà il limite superiore a meno 3db della banda passante chiaro? e quindi abbiamo stavolta 5 bande diverse c'è la banda passante la banda di transizione inferiore e la banda di transizione superiore e poi la banda soppressa inferiore e la banda soppressa superiore non so scrivere sul disegno è chiaro quali sono ecco tenete presente che quando si va a definire le specifiche di un filtro perché se ne richiede la progettazione oppure l'acquisto in modo più semplice bisogna queste quantità che segno in giallo che vengano tutte richieste specificate tipicamente queste quattro frequenze mi vengono richieste mi viene richiesto l'amplificazione a centro banda l'attenuazione della banda soppressa e il massimo ripo che si può sopportare quindi quel set di quantità che ho indicato in giallo sono le cose che devono essere specificate nel momento in cui si richiede di realizzare un filtro che cosa vuol dire realizzare un filtro vuol dire fare due cose prima di tutto decidere i coefficienti del numeratore e del denominatore del filtro perché quello vuol dire decidere esattamente la funzione di trasferimento va bene e poi una volta decisi i coefficienti bisogna realizzare il circuito dimenzionare il circuito che abbia quella funzione di trasferimento quindi progettazione di un filtro ha due passaggi diversi prima bisogna decidere quale funzione di trasferimento in realtà vogliamo cioè quali sono i coefficienti che vuol dire quali sono i poli e quali sono gli zeri del filtro e poi disegnare il circuito che abbia quella funzione di trasferimento ok e adesso vediamo appunto come si fa l'uno e l'altro allora in questi casi quello che conviene fare è cercare di scomporre il problema ma in problemi più semplici e più facilmente gestibili e il modo migliore di far questo è ricordare che per ottenere una funzione di trasferimento con molti poli e molti zeri semplicemente quello che si può fare è mettere in cascata più funzioni di trasferimento più semplici perché poi la funzione di trasferimento ottenuta sarà il prodotto delle varie funzioni di trasferimento quindi vediamo dei casi semplici prima e poi da lì possiamo crescere e realizzare filtri di qualunque complessità ma partiamo da cosiddetti filtri biquadratici vediamo un pochino insieme che cosa sono filtri biquadratici sono filtri che hanno una funzione di trasferimento del secondo ordine filtri biquadratici si chiamano anche biquad in inglese sono filtri che hanno funzione di trasferimento genericamente del secondo ordine quindi hanno un numeratore del secondo ordine e un denominatore del secondo ordine ma come sapete i filtri sono sistemi lineari quindi i coefficienti sono tutti coefficienti reali quindi in generale possiamo scriverli così come funzione di trasferimento chiaramente qui è ridondante ci sono 5 coefficienti indipendenti no? perché poi si può sempre comunque semplificare quindi sono solo 5 coefficienti indipendenti e poi a un certo punto una cosa più pratica è scrivere lo stesso la stessa funzione di trasferimento in questo modo che viene particolarmente comoda per noi cioè scriverla così s su s su omega p al quadrato più s su q p omega p più 1 e questo è s su omega z al quadrato più s su q p omega z più 1 tutto per h0 è semplicemente un modo diverso di scrivere la cosa non sbagliato non q p al numeratore q z in pratica ho 5 coefficienti indipendenti omega z q z omega p q p e h0 h0 che cos'è è il valore di h di s quando s è uguale a 0 come si vede bene dall'espressione che cosa rappresenta quegli altri coefficienti è un modo come dire è un modo che mi permette di legare direttamente i coefficienti del filtro al alla posizione di poli e zeri del sistema in particolare vedete il prodotto dei poli è omega p quadro poi definizione vedete perché i poli sono le radici del denominatore se vedete scritto in questo modo le radici del denominatore sono omega p quadro per cui perché è utile scriverlo così perché se le radici sono complesse coniugate e quindi sono uguali in modulo vuol dire che ogni polo ha modulo omega p quindi omega p in quel caso lì rappresenta il modulo del polo se i poli sono complessi coniugati se i poli invece sono reali omega p rappresenta la media geometrica dei due poli ok chiaro il concetto stesso discorso vale quindi lo scrivo tanto omega p è il modulo dei poli se complessi coniugati oppure è la media geometrica dei poli se reali stesso discorso vale per omega z omega z quadro è il prodotto dei due zeri che cos'è il qp questo qp ha un significato geometrico nel caso in cui sia maggiore di 1 in pratica perché se ci fate caso ma non so se questa cosa l'avete già vista o il caso di vederla insieme se i due poli guardiamo i poli se i due poli sono complessi coniugati quindi hanno modulo omega p hanno parte reale uguale vi ricordate qui è parte immaginaria chiaramente una negata rispetto all'altra questo qui chiamiamolo alfa qp in questo caso è 1 diviso 2 coseno di alfa se si riesce a dimostrare abbastanza bene potete farlo anche un po' per conto vostro nel senso provate a scrivere il polinomio che ha le due radici indicate là complesse coniugate e vi viene questa relazione se non l'avete mai vista la potete riconoscere facilmente l'avete già vista così scritta prima volta la vedete al volo vabbè mi faccio vedere io un attimo allora facciamo prima allora prendiamo sp1 il primo polo come sarà fatto sarà fatto del tipo omega p che moltiplica meno coseno di alfa più j seno di alfa questo è il primo polo l'altro polo sp2 sarà del tipo omega p che moltiplica meno coseno di alfa meno j seno di alfa dubbi su questa cosa non penso no questo è ovvio allora a questo punto il denominatore scritto così cioè col termine noto uguale a 1 vuol dire che lo scriviamo in questo modo s su sp1 meno 1 che moltiplica s su sp2 meno 1 va bene perché in questo caso viene l'1 come termine noto vedete s p1 e s p2 sono le due radici del denominatore perché quando s uguale a s p1 il denominatore fa 0 eppure lo fa quando s uguale a s p2 allora se svolgiamo qui mi viene s quadro diviso s p1 s p2 meno s che moltiplica 1 su s p1 più 1 su s p2 più 1 allora a questo punto potete mettere in relazione le cose che vi ho detto allora per esempio vedete il denominatore del termine di secondo grado è s p1 e s p2 e di là è omega p quindi omega p quadro è uguale a s p1 per s p2 che è la cosa che vi dicevo prima no? il prodotto dei poli omega p quadro ritorna ritorna il termine di secondo grado invece è questo qua ve lo faccio vedere abbastanza chiaramente dunque qui com'è che si vede se qui ho fatto il caso di poli complessi coniugati se sostituisco cosa mi viene questo termine sostituisco questa roba qua dunque cosa mi viene facciamolo da qui prendo questo faccio minimo comune multiplo quindi viene s p1 s p2 che è il numeratore s p2 più s p1 va bene col segno meno davanti ho preso il termine in primo grado e ho fatto il minimo comune multiplo chiaro? ora che cosa faccio? il denominatore lo riconosco fa omega p quadro l'ho appena ricavato e lo scrivo va bene? il numeratore se faccio s p2 più s p1 guardate come l'ho scritto la parte immaginaria si semplifica e mi rimane due volte la parte reale col segno che c'è quindi viene meno due volte omega p per coseno di alfa giusto? allora omega p va via col quadrato e mi rimane meno due coseno di alfa diviso omega p e corrisponde a questo coefficiente a 1 su q p per omega p e da cui ricavo che q p è uguale a 1 su 2 coseno di alfa questo meno va via con questo meno quindi qui non c'è qui meno più che è la cosa che vi dicevo mi fa comodo scriverlo in quel modo perché in questo modo leggo direttamente la posizione geometrica dei poli sul piano complesso ai coefficienti c'è un modulo e q p che mi dà l'angolo rispetto all'asse reale questo termine q p si chiama anche fattore di qualità in questo caso è il fattore di qualità dei poli il q z sarà il fattore di qualità degli zeri d'accordo allora quindi abbiamo introdotto i filtri biquadratici cosa c'è da dire che in particolare con i filtri biquadratici si possono ottenere tutte le funzioni di trasferimento che abbiamo visto prima possiamo ottenere se è un passa alto se è un passa banda un elimina banda e un passa basso vediamo com'è che si fa e vediamo come sono fatte le corrispondenti funzioni di trasferimento quindi partiamo da un filtro biquadratico passa basso dunque cosa come è fatto un filtro biquadratico passa basso beh in realtà ha due poli e non ha nessuno zero quindi se vogliamo che non abbia nessuno zero deve essere che il numeratore della funzione di trasferimento è soltanto un numero puro cioè sia b1 sia b2 devono essere nulli ancora a quel punto la funzione di trasferimento diventa h uguale a h zero numeratore e basta diviso a 2s al quadrato beh anzi scriviamolo a questo punto in termini di omega p s su omega p al quadrato più s su omega p qp più 1 quindi questa è la funzione di trasferimento sul piano complesso quindi ho soltanto i due poli che hanno modulo omega p quindi cosa vuol dire stanno sul cerchio di raggio omega p giusto? è importante per me che riconosciate per ogni funzione di trasferimento dove stanno i poli e gli zero quindi io qui devo disegnare un cerchio di raggio omega p i due poli che si rappresentano con una crocetta stanno qua sul cerchio quindi hanno modulo omega p e fanno con l'asse delle ascisse un angolo alfa che è legato a qp dalla relazione che abbiamo visto prima cioè quel qp è 1 su 2 coseno di alfa quindi più qp è alto quindi più il fattore di qualità del filtro è altro più vuol dire che il coseno di alfa è basso che vuol dire che i poli si avvicinano all'asse immaginario quindi il fattore di qualità alto vuol dire poli vicino all'asse immaginario come è fatto il diagramma di bode di un una funzione di trasferimento di questo tipo ecco qui è interessante da notare non sono sicuro che abbiate tutti gli elementi vediamo quello che manca lo ricaviamo un attimo insieme allora la situazione è questa avete la frequenza in scala logaritmica e poi avete h in db allora il diagramma di bode lo sapete tracciare questi particolari sono molto facili vediamo insieme per bene come si fa i due poli immaginiamo che siano immaginari non immaginari voglio dire comparte immaginaria cioè complessi coniugati in generale quindi hanno un modulo che corrisponde a omega p che vuol dire che in omega p ho i due poli e quindi come è fatta la funzione di trasferimento è fatta così facciamo il diagramma sintotico di bode è uguale ad h0 in db fino alla frequenza che corrisponde a due poli e poi sopra diciamo per frequenze maggiori il diagramma di bode è asintotico come è fatto ho due poli e quindi va giù con una vendenza di meno 40 db per decade va bene notate una cosa che non so se questa cosa l'avete questa credo l'abbiate notata in qualche corso precedente che nella realtà il la funzione di trasferimento fa una cosa di questo tipo qui può avere un picchetto e poi riscendere oppure a seconda della situazione può fare può andare verso il basso com'è che si fa a vedere beh guardate che h in corrispondenza di omega p cioè quando j omega è uguale a omega p guardate che cosa succede se scrivo h di j omega p il numeratore il denominatore è l'unica cosa che può cambiare il termine di secondo grado fa meno 1 quindi si semplifica con 1 s uguale a j omega p e quindi l'omega p si semplifica con l'omega p del denominatore quindi h di j omega p viene semplicemente h0 per j per qp quindi quindi il modulo di h di j omega p in db ok è uguale ad h0 in db più qp in db ricordate decibel vuol dire fare 20 volte il logaritmo in base di 10 quindi ho il prodotto di h0 e qp in decibel il prodotto è uguale decibel del primo più decibel del secondo termine quindi che cosa vuol dire vuol dire che questo qui è h di j omega p in db quindi l'aumento che si ottiene rispetto al punto è uguale esattamente a q in db quindi se non voglio il picco non voglio il picco devo avere q compreso tra 1 e 1 mezzo perché q maggiore di 1 mezzo serve per avere poli complessi coniugati q minore di 1 mi serve perché se q è minore di 1 q in db è minore di 0 e quindi non ho il picchetto d'accordo? ok quindi il filtro passavanda a questo punto è definito in modo preciso se lo voglio del secondo ordine l'unica cosa da definire è quanto voglio il q e quanto voglio omega p a quel punto ho definito univocamente polli e zeri e quindi ho definito univocamente coefficienti del filtro va bene vediamo gli altri biquadratici che si possono ottenere vediamo per esempio il filtro biquadratico passa alto qui la situazione è diversa se voglio il filtro biquadratico passa alto devo avere due zeri nell'origine e due poli quindi sono stavolta i coefficienti b1 e b0 che devono essere nulli perché ho bisogno di avere due poli e due zeri nell'origine che immaginate se ho due zeri nell'origine e due poli il diagramma di bode mi viene passa alto allora h quindi sarà una cosa di questo tipo sarà b1 b2 s2 s al quadrato diviso a2 s al quadrato più b1 b1 e non a1s più a0 utilizzando omega p e qp avrò a denominatore ovviamente s su omega p al quadrato più s su qp omega p più 1 più 1 e a numeratore e temi di secondo grado mi può convenire scriverlo in questo modo guardate mi può convenire scriverlo come s su omega p al quadrato per h infinito quindi questo termine b2 scriverlo in funzione di h infinito perché cos'è questo h infinito cosa rappresenta se vedete è il limite di h quando s tende a infinito perché per s grande conta soltanto termini di secondo grado a numeratore a denominatore quindi il rapporto quella frazione fa 1 e rimane soltanto a che è infinito quindi questa è l'espressione come sono fatti quali sono le posizioni di polli e zeri sul diagramma di Bode e come è fatto il diagramma di Bode chiaramente posizione i polli e zeri sul piano complesso io so che i due zeri che si indicano col pallino stanno nell'origine e poi qua faccio il cerchio di raggio omega p e di nuovo i due polli hanno modulo omega p e angolo alfa dove alfa è legato al fattore di qualità dei due polli quindi ho due polli e due zeri messi in quella posizione se vado a fare il diagramma di Bode mi viene fuori chiaramente quello che sapete questo è il logaritmo di omega queste H in db chiaramente cosa avrò? avrò qui omega p e quindi poi avrò che per frequenze inferiori a omega p asintoticamente il diagramma va con più 40 db per decade in omega p intervengono i due polli e quindi la pendenza va a zero omega p è anche il limite inferiore di banda non è esattamente il limite inferiore di banda perché dipende dal q ma insomma è vicino al limite inferiore di banda e chiaramente qui vale lo stesso discorso di prima posso o meno avere una sovralongazione e la sovralongazione è il valore di q in db quindi qui devo stare attento se non voglio averla ad avere un valore di q il più possibile cioè il più piccolo di 1 vedete il fronte che ho nella corrispondenza dei limiti di banda se il fito è b quadratico è al più 40 di b se riesco a sfruttare tutte e due i polli chiaramente se ho bisogno di avere delle transizioni più brusche bisognerà ricorrere a funzioni di trasferimento con più poli si può andare su parecchio non è per niente strano trovare situazioni con funzioni di trasferimento con 12 poli se bisogna avere un filtro in prestazioni particolari posso aumentare il numero di poli più o meno a piacimento va bene si possono ottenere anche filtri biquadratici passabanda un filtro biquadratico passabanda qui richiede un attimo di commento perché in prima battuta uno può dire va bene io posso ottenere un filtro passabanda mettendo in cascata un passalto e un passabasso ok questo è ovvio non è pratico in tanti casi per quale motivo perché spesso a me serve avere un filtro molto stretto in cui il limite inferiore di banda e il limite superiore di banda siano molto vicini tra di loro se metto un filtro passalto e un filtro passabanda in cascata qual è il rischio che con le tolleranze di fabbricazione se voglio realizzare due limiti molto vicini in realtà per esempio il filtro il limite la frequenza passabasso va da sopra il limite superiore di banda perché basta poco d'accordo e quindi se ho bisogno di ottenere un filtro passabanda con una banda stretta rispetto alla frequenza centrale non metto in cascata un passalto e un passabanda non posso metterlo perché è troppo poco efficiente devo realizzare un filtro che abbia una funzione di trasferimento molto come dire piccata con un picco nel mezzo intorno alla frequenza che voglio far passare e che mi faccia passare la banda che desidero quindi per esempio io posso ottenere la cosa con un biquadratico mettendo uno zero nell'origine e due poli e due poli e in questo caso sfrutto due poli complessi coniugati in questo caso sfrutto il fattore di qualità del filtro quindi la funzione di trasferimento com'è che mi viene devo avere b2 e b0 uguale a 0 e invece b1 no quindi avrò una funzione di trasferimento di questo tipo b1s a numeratore quindi mi viene uno zero nell'origine e il denominatore a2s al quadrato più a1 per s più a0 questa quantità mi conviene scriverla così s su omega p al quadrato più s su qp omega p più 1 a numeratore e al denominatore mi conviene fare così vedete mi conviene scrivere qua s diviso qp omega p e poi h centrobanda scritto di lato perché quando s è uguale a j omega p il numeratore e il denominatore si semplificano in questo caso e quindi quella frazione fa 1 e rimane che il valore di h è uguale al valore di h centrobanda allora se vado a disegnare il piano complesso per vedere la posizione dei poli dove stanno ve lo potete immaginare abbiamo già visto non sto dicendo niente di nuovo in pratica devo fare di nuovo il cerchio di raggio omega p i due poli sono qua con un angolo alfa in cui 1 diviso 2 coseno di alfa è uguale a omega p per cui 1 diviso 2 coseno di alfa è uguale a omega p e poi avrò uno 0 nell'origine che rappresento in questo modo quindi questa è la situazione del piano complesso ecco invece magari dobbiamo spendere due parole in più sul diagramma di bode perché il diagramma di bode è come è fatto dunque è fatto in questo modo qui ho omega scala logaritmica qui ho h questo qui è omega p allora il diagramma asintotico è fatto così parto con 20 di b per decade va bene qui intervengono i due poli e quindi dopo i due poli avrò meno 20 di b per decade la tendenza è la stessa di quella che ho a salire vabbè insomma ho fatto a mano la punteggiata la puntina mia quindi questi sono più 20 di b per decade e qui avrò meno 20 di b per decade d'accordo? allora poi però qui c'è una cosa importante qui avrò un picco che rispetto a questo punto è h è uguale a q in decibel q in db quindi l'andamento mi viene dunque prendiamo questo in questo modo questo è quello asintotico quello invece reale è fatto così avrò una cosa del genere qui sale qui scende questo punto qua è il valore di h a centro banda un picco che è tanto più alto quanto è alto il valore di q in db ecco una cosa che merita un po' di discussione è questo si vede abbastanza facilmente che il limite che la banda passante cioè se io prendo qua e traccio a meno 3 db una retta questa qua è la banda passante a meno 3 db chiamiamola b va bene ecco quello che ottengo è che b è uguale a omega p diviso q p quindi c'è la banda passante del filtro è uguale alla frequenza centrale cioè alla frequenza dei poli diviso il fattore di qualità tra l'altro questo è il motivo per cui il fattore di qualità si chiama così perché più è alto qp più piccola riesca a fare la banda passante cioè più selettivo riesca a fare il filtro l'uso dei filtri selettivi è fondamentale specialmente nel anche nelle comunicazioni radio perché è con l'uso del filtro selettivo che sintonizza una stazione per esempio radio partendo dalla comunicazione più più semplice la telecomunicazione più semplice quindi è un tipo di di filtro molto molto chiaro ora questo dovrebbe essere evidente dalla descrizione che ho fatto non so se è chiaro non l'avete mai visto il conto di questo penso di no lo facciamo un attimo insieme ora vi voglio dimostrare questa cosa che è importante e dovete essere convinti il fatto è che la banda passante sia uguale a qp diviso omega p vi faccio vedere allora questa qui è la banda passante a meno 3db questa è una proprietà importante dei poli complessi coniugati e vabbè insomma in qualche modo è importante farla vedere vediamola in questo caso particolare allora come lo facciamo a vedere facciamo così analizziamo come è fatta la funzione di trasferimento per semplificare in un intervallo piccolo di omega p tanto il picco sarà all'intorno chiaramente ecco questa relazione qui vale se qp è molto maggiore di 1 perché è una relazione approssimata vale se il fattore di qualità è molto maggiore di 1 allora se il fattore di qualità allora cosa facciamo per capirlo facciamo un'espansione della funzione di trasferimento intorno a omega p a primo ordine in modo a vedere esattamente come è fatto e prendiamo questa hds allora facciamolo prima quindi espansione espansione al primo ordine di hdj omega intorno a j omega p va bene quindi scriviamola così omega è uguale omega p più delta omega va bene quindi per delta omega piccoli a primo ordine noi facciamo l'espansione al primo ordine quindi ricopiamo hdj omega uguale torniamo prima quindi dobbiamo sostituire al posto di s j omega più delta omega va bene quindi a numeratore e a denominatore quindi abbiamo j omega più delta omega diviso qp omega p e qui abbiamo j omega più delta omega al quadrato diviso omega p al quadrato più j omega più delta omega omega p diviso omega p qp più 1 ok allora questo lo facciamo per delta omega al primo ordine in delta omega quindi per delta omega piccoli allora facciamo un altro passaggio e poi facciamo tutte le semplificazioni del caso quindi qui lo copiamo pari pari qui che cosa abbiamo abbiamo svolgiamolo un attimo abbiamo omega p omega p non ho fatto omega p omega p allora qui abbiamo quindi termine di omega p quadro fa meno 1 più termine delta omega quadro fa meno ok delta omega al quadrato diviso omega p poi termine misto incrociato che fa più 2 j omega p per delta omega diviso omega p al quadrato quindi questo omega p va via con il quadrato di sotto questo è il termine il primo termine quadratico del denominatore più beh qui posso semplificare j su qp è il primo termine che omega p si semplifica con questo omega p più j delta omega diviso qp omega p va bene va bene più 1 questo ha qui devo moltiplicare per hcb ok qui devo moltiplicare per hcb allora adesso facciamo un po' di semplificazioni quindi prima le cose che si semplificano qui c'è meno 1 e più 1 e se ne vanno va bene poi a denominatore io che cosa ho? ho un termine reale che è questo qui va bene un termine reale che è questo e poi ho un termine immaginario che è questo allora il termine immaginario innanzitutto vedete qui ho delta omega diviso omega p e qui ho delta omega diviso omega p qp quindi se qp è molto maggiore di 1 io ho questo termine posso trascurarlo rispetto a questo va bene quindi ho questo termine lo trascuro rispetto a questo ok e invece c'è un pezzo che mi ah no infatti ecco non mi tornava scusate ho sbagliato una cosa io e qui non c'è j qui questo j va via quando faccio il prodotto ho j omega p quando faccio il prodotto questo j al quadrato mi diventa meno 1 quindi qui mi diventa mi diventa meno 2 invece di 2 j ho sbagliato quando ho fatto quindi vediamo un po' ripendo la gomma e cancello qua qua allora devo cancellare anche questo allora riprendiamo mi era rimasto un j di troppo quindi qui c'è un meno 2 la parte reale quindi è questo e nella parte reale in pratica che cosa ho? ho vedete in pratica ho questo termine che è con delta omega al quadrato questo termine che è con delta omega e basta quindi al primo ordine io questo termine quadratico lo trascuro rispetto al termine lineare ok? dal primo ordine questo lo faccio quindi mi rimane soltanto questa parte reale quindi rimane soltanto questo pezzo e poi qui invece che cosa ho? beh qua ho omega p più delta omega è chiaro che in questo caso il primo ordine è trascurabile rispetto all'ordine 0 quindi questo termine lo posso levare rispetto all'omega p al denominatore li conservo i termini di primo ordine perché i termini di ordine 0 si sono semplificati no? si sono eliminati tra di loro al numeratore invece no è quindi inutile che lo conservi una volta che questo l'ho tolto allora omega p e omega p si semplificano mi rimane soltanto j su omega p allora detto questo riscriviamo la pulita mi viene h di j omega uguale a j su qp a numeratore e a denominatore ho meno 2 delta omega diviso omega p più j su qp tutto questo per h cb va bene? allora adesso è facile perché quello che dovete ricordare è che cosa vuol dire limite a meno 3 db limite a meno 3 db vuol dire che h di omega l per esempio omega s in modulo in db è uguale ad h cb al valore nel punto massimo meno 3 giusto? ma in termini di modulo vuol dire che il modulo di omega l è uguale a 1 su radice di 2 del modulo di h cb no? meno 3 db vuol dire che il modulo non si riesce quindi in corrispondenza del limite di banda cosa dobbiamo avere? che questo termine qui la frazione deve avere modulo 1 su radice di 2 va bene? ritorna? vedete guardate l'espressione che è scritta in basso a sinistra in corrispondenza dei limiti di banda quando al posto di omega qui mettiamo omega l questa frazione qui deve avere modulo 1 su radice di 2 bene? quindi cambio pagina in corrispondenza dei limiti di banda a meno 3 db la frazione quindi il modulo di j su q diviso meno 2 omega su omega p più j su q deve essere uguale a 1 su radice di 2 che cosa vuol dire? siccome la parte reale vedete il numeratore è immaginario al denominatore c'è una parte immaginaria che è uguale alla parte del numeratore e poi c'è un'altra parte reale perché questa cosa sia vera vuol dire che al denominatore la parte reale deve essere uguale alla parte immaginaria perché se il denominatore è la parte reale uguale alla parte immaginaria vuol dire che il denominatore è il modulo radice di 2 volte il numeratore ok? mi torno al discorso questo punto è proprio come dire geometria banale perché se la parte reale e la parte immaginaria sono uguali allora il modulo radice di 2 volte la parte immaginaria e la parte reale quindi cosa vuol dire che 2 volte per delta omega su omega p deve essere uguale a 1 su q e quindi a questo punto ho trovato quant'è 2 delta omega 2 delta omega è uguale a omega p diviso q questo vale sia per delta omega positivi sia per delta omega negativi quindi cosa vuol dire questo? che se ho disegno il grafico il diagramma di Bode prima se questo è omega p questo è solo la punta sto disegnando questo qui è hcb in db 3db sotto avrò che questo è delta omega questo qui è delta omega la banda è 2 delta omega va bene? quindi ho trovato che 2 delta omega è uguale a omega p su q p cioè la banda è uguale a omega p su q p che è la stessa cosa che vi dicevo l'ho chiamato q insomma ho perso il p di pedice ma che è la cosa che volevamo dimostrare ok? quindi questo è un discorso che vale in generale quando ho due poli complessi coniugati se il q è molto maggiore di 1 ok? c'è questa costrizione questo lì vincolo allora la banda passante è uguale alla frequenza centrale diviso il fattore qualità per inciso dov'è che io devo sfruttare il fatto che q sia molto maggiore di 1? lo sfrutto qui vedete? è qui che l'ho sfruttato perché in pratica cosa ho fatto è dunque c'è un punto in cui l'ho sfruttato dunque dov'è che l'ho sfruttato esattamente vediamo un po' non è che l'abbia sfruttato tantissimo l'ho sfruttato qua l'ho sfruttato qui quando al primo ordine me lo son portato dietro questo termine cioè quando ho usato questo termine qua nel limite al primo ordine lo uso al primo ordine perché immagino che qp sia molto grande per cui questo j su omega p sia un termine piccolo chiaramente se invece non è piccolo questo non basta il primo ordine per riempirlo dovrei portare dietro anche il secondo ordine delta omega a quel punto l'espressione diventerebbe più complicata va bene quindi a questo punto abbiamo visto come fare il limite il filtro passabanda come si dice selettivo cioè con banda ecco un filtro passabanda si chiama selettivo questa è una definizione passabanda è selettivo se b è molto minore di omega p banda passante molto meno di omega p a quel punto siamo obbligati a usare un filtro con cui elevato per concludere possiamo avere anche un filtro elimina banda così concludiamo la rassegna facciamo un attimo di pausa un filtro elimina banda nel caso di un filtro elimina banda noi che cosa vogliamo fare vogliamo eliminare la vogliamo eliminare una banda intorno a una frequenza particolare e la cosa si riesce a ottenere con un filtro biquadratico se si fa solo b1 uguale a 0 quindi mettiamo quindi mettiamo zeri immaginari puri e gli zeri immaginari puri ci permettono di eliminare la banda e due poli complessi coniugati quindi noi usiamo una funzione di trasferimento di questo tipo per esempio s su omega p al quadrato più 1 diviso s su omega p al quadrato più s su q p omega p più 1 vedete il termine di primo grado del numeratore è nullo però si capisce che se s è uguale a omega p abbiamo che h è uguale a 0 quindi se s è uguale a j omega p abbiamo che h è uguale a 0 cioè abbiamo eliminato quella frequenza perché la risposta del filtro a quella frequenza è esattamente nulla la cosa funziona se poli e zeri hanno lo stesso modulo per questo ho chiamato omega p quindi i due zeri sono più o meno g omega p e due poli sono complessi coniugati di modulo omega p ecco qua conviene anche moltiplicare qua per h0 in modo da evidenziare il fatto che la funzione di trasferimento vedete quando s è uguale a 0 fa h0 ma anche quando s è infinito fa h0 quindi in pratica la funzione di trasferimento ha questa cosa per s uguale a omega p fa esattamente 0 per s molto minore di omega p fa h0 per s molto maggiore di omega p lo stesso perché vedete quando s è molto maggiore di omega p s che è finito abbiamo che conta soltanto termini di secondo grado al numeratore al denominatore i due termini sono uguali quindi la frazione fa 1 e rimane soltanto h0 quindi quindi ho una funzione di trasferimento che se la vado a disegnare è fatta così facciamo il solito disegno prima la posizione i polli e zeri questa si disegna abbastanza bene perché devo fare il cerchio di raggio omega p ok parte reale parte immaginaria questo è il cerchio di raggio omega p devo posizionare qui i due zeri questo cerchio non è venuto proprio preciso ma insomma questi sono i due scusate questi sono i due poli complessi coniugati con angolo alfa che è legato da omega p dalla relazione che conosciamo e poi i due zeri che sono tutti e due immaginari puri il diagramma di bode mi viene fatto in questo modo anzi siccome devo non faccio il diagramma di bode faccio solo il grafico della funzione di trasferimento perché è più semplice perché quando sono in corrispondenza di omega p io so che quindi qui vale h0 qui vale h0 e quando sono in corrispondenza di omega p vale esattamente il zero quindi la funzione di trasferimento è fatta così un pochino più simmetrica chiaramente ho esagerato un po' aspettate vediamo un po' se mi riesce a disegnarla bene viene fatta così e poi sale che è esattamente zero in corrispondenza di dei due zeri immaginari puri anche in questo caso io potrei andare a disegnare una curva a meno 3 db che adesso qua mi viene se prendo h0 diviso radice di due perché sono su scala lineare quindi questa è la curva a meno 3 db e posso ottenere questa qui che è la banda eliminata la banda eliminata che se provate a fare due conti esattamente uguali a quelli che abbiamo fatto per il passabanda per cui non sto ovi rifarveli vi viene fuori che è uguale alla frequenza degli zeri e dei poli diviso il fattore di qualità dei poli che questo è una cosa vabbè è esattamente il ragionamento che abbiamo fatto per il passabanda si può rifare e vale anche per l'elimina banda quindi magari può essere interessante da fare come esercizio quindi questo è il tipo di filtro che si usa quando c'è bisogno di eliminare una frequenza in tanti casi è utile una cosa del genere per esempio se so che a quella frequenza c'è un disturbo anche nel sistema di comunicazione se si sa che a una frequenza a cui si riceve c'è un disturbo spesso si introduce un filtro che taglia esattamente quella frequenza il più stretto possibile giusto per eliminare il disturbo chiaramente la cosa difficile è prenderlo farlo preciso in modo che elimini soltanto il disturbo quindi va fatto in generale in questi casi o preciso o quantomeno accordabile in modo che possa modificare la frequenza va bene facciamo una parte